30.000 persone sono attese a Termoli per questo fine settimana per partecipare alla prima edizione del Comics & Games, un evento per gli appassionati di fumetti, cosplay, videogiochi e cultura pop in generale. Un programma ricco, quello ideato da Mario Palladino e Nicola Palmieri, noti creator di YouTube, diventati famosi per il loro canale, quei due sul server. Ci saranno workshop, incontri con autori, youtuber, tiktoker, mostre e spettacoli. Un desiderio che ha preso forma grazie agli sponsor che hanno contribuito e alla collaborazione dell'assessorato alla cultura. Ci dobbiamo aspettare grandi cose perché abbiamo comunque creato qualcosa che già si rivela sulla carta di impatto per la regione intera e non solo la regione, anche tutto l'Adriatico. Quindi sì, tante belle cose, tante belle persone. Una fiera diffusa, come non si era assolutamente mai vista, ma ce ne sono veramente poche in giro, ricordo il Lucca Comics, ma noi siamo veramente un mignolino del Lucca Comics, insomma. Mettiamo un piede su questa fiera. Non poteva mancare una mostra dedicata al centenario della nascita di Benito Iacovitti. Una cosa da menzionare, la mostra di Iacovitti, che è un po' il cuore pulsante. Avremo anche Luca Salvagno, che è l'erede un po' storico di Iacovitti, quindi Cocco Bill continua grazie a lui. Ci si possa aspettare una fiera a misura d'uomo ed è anche per questo che abbiamo deciso di farla a Termoli. Io credo che uno dei più grandi pregi di questo posto sia il fatto di essere ancora sempre a misura d'uomo. E rispetto ai grandi eventi, come quello che ha citato Nicola Lucca, io credo che qui si possa riuscire a fare una cosa un po' più pulita, un po' più ordinata, meno caotica, ma comunque con del buon contenuto, perché ci siamo sforzati molto di riempire questo evento di contenuti di buon livello. Per rimanere aggiornati ed informarsi sui percorsi e sulle iniziative, basterà scaricare l'applicazione direttamente dal sito web termolicomics.it Grazie a tutti.